C'è chi vince, c'è chi per te, non è bene, non è bene, non è bene, non è bene Ancora una volta Luna Park ha voluto accogliere questi ragazzi per offrire loro un momento di festa, di gioia Certamente, infatti noi siamo contenti di questo perché è una cosa che si faceva anni fa in Piazza Milano non siamo più riusciti a rifarla per via della pavimentazione che nella parte esterata riuscivamo da quando siamo tornati su questa area siamo riusciti ancora a fare questa manifestazione per questi ragazzi che è una cosa per noi gratificante Io volevo ringraziare come tutti gli anni i giustrali e soprattutto noi ragazzi siamo commossi di questa cosa Loro sono sempre grati e ogni anno si rinnova questa, ormai che possiamo definire una tradizione che vivono benissimo come potete vedere dalle immagini e speriamo che questa cosa si protraga ancora nel tempo Come tutti gli anni li portiamo qui alle giostre e gli facciamo passare una bella mattinata in compagnia con noi e noi con loro come tutti gli anni e intanto porgo l'occasione per ringraziare il panificio Angelo e Davide di Lavagna che per questa mattinata ci ha offerto la focaccia per tutti i ragazzi Una realtà apprezzata quella delle giostre e oggi un modo anche per riconoscere l'accoglienza che la città offre a questa realtà Sì, guarda, siamo particolarmente contenti di essere qui con questi meravigliosi ragazzi e tra l'altro una valenza anche sociale a cui noi teniamo molto Le giostre sono qui, sono per la seconda edizione nuovamente sull'area di colmata, quella più bella noi siamo particolarmente contenti di averli ospitati qui